ben tornati in diretta buongiorno weekend ringrazio pierre che ci ha scritto nella prima parte di buongiorno weekend dicendo che paul dirac era uno dei più grandi fisici della storia aveva la sindrome di aspergero appena letto la sua bellissima biografia grazie questo è quello che mi piace il buongiorno weekend se riusciamo ad interagire con i temi della puntata perché sono sempre temi molto molto attuali e assolutamente interessanti come lo sarà questo blocco con o iosce buongiorno l'ho detto bene benissimo buongiorno martina no perché la mattina vincenzo io ogni tanto i nomi li sbaglio e quindi ci tenevo intanto grazie facilmente sbagliabile però quando lo si imparerà bene significa che siamo arrivati del tutto lo si impara non si impara perché sei giovane ma già navigato nella storia del del rap e quindi assolutamente lo conosceranno ancora di più intanto grazie appunto per essere qui a buongiorno weekend perché è estremamente attuale quello che quello di cui parleremo oggi insomma da poco e da pochissimo è uscito il tuo nuovo album con un singolo molto aggressive ma in realtà è veramente una una canzone che parla di noi purtroppo bestia uno dei singoli che ho apprezzato di più del tuo del tuo album amen è un acronimo che cosa vuol dire amen significa al mondo esistiamo noi e diciamo io mi mi catalogo mi inserisco in quel range in quel target di artisti meno conformisti a quelli che sono gli artisti nuovi artisti rap i nuovi artisti pop che sono molto più contaminati da dal pop da dalla cultura popolare dal seguire quello che fa più comodo alla mediaticità a me a me a noi piace essere scomodi abbiamo scelto diciamo la strada lunga il percorso lungo oggi che comunque la soglia di ascolto è calata si tende a voler abbreviare le strade a saltare la gavetta io mi reputo oltre che una personalità a livello personale anche a livello artistico molto differente da quello che sono gli standard di oggi quindi ho voluto creare questo noi per aiutare tutte quelle persone che oggi non si trovano omologati a quelli che sono gli standard attuali culturali moderni l'ho voluto racchiudere nella mia musica e farsi che queste persone tutti i fan di un determinato modo di fare le cose possano ritrovarsi nella mia musica che che è una musica sincera che è una musica che non punta magari non lo dico in maniera ipocrita perché voglio che anch'io la musica si diffonda ma non non naviga e non viaggia sul concetto dei numeri sul concetto della fama ma bensì sulla su una struttura solida mia personale artistica e di contenuti quella di di mandare un messaggio a tutti i costi anzi più è corposo il messaggio più mi sento soddisfatto di quello che sto facendo e dell'artista che sto che sto sviluppando diciamo C'era di contenuti proprio saranno gli aggettivi che mi vengono in mente pensando alla tua alla tua canzone il tuo album perché in effetti si dà per scontato che il rap sia aggressivo cioè chi non lo conosce comprende lo vede e lo pensa come un genere musicale di di contestazione ma aggressiva senza contenuti solo forza questo è quello che appare a chi non conosce chi non ascolta veramente le canzoni e chi non ascolta il genere ecco se invece facessimo attenzione alle parole dette così sincopate dette così veloci però in realtà sono parole scelte molto bene mo con molta attenzione quando hai capito che questo era il tuo genere questo era il tuo modo di poter dire qualcosa di fare musica dicendo qualcosa guarda ti dirò uno dei mio io sono del 91 ok quindi nel 2000 2002 tra il 2002 ho scoperto cioè c'erano già i primi rapper quelli fortunati in un'epoca in cui il rap non era commerciale che stavano riuscendo ad emergere in italia avevamo piotta con supercafone tra i 90 e i 2000 io avevo 9 circa 9 10 anni poi dopo c'è stato l'avvento di eminem che tra l'altro nel 2002 è stato anche a sanremo quindi in italia si stanno iniziando a presentare questo questo personaggio ho avuto la fortuna di conoscere di conoscerlo ovviamente da da fan e di rispecchiarmi molto nella sua musica in quella rabbia in quella voglia di rivalsa ho iniziato a ritrascrivere su dei quaderni delle sue canzoni e poi ho iniziato a improvvisare le rime di fare questa cosa del parlare come dicevi tu una cosa esattissima in maniera sincopata nel senso in quello che faccio io nel tipo di rap che faccio io la forma è fondamentale senza un determinato tipo di forma puoi dire tutto quello che vuoi stai parlando sulla musica perché molto spesso la gente fa l'errore di dire che il rap è parlare a tempo cioè in realtà secondo me è il tempo che parla ok però la forma la tecnica alla ricerca anche lo spessore culturale mentale geniale di un rapper rientra nelle negli schemi di come deve essere valutato un bravo rapper non deve solo ok dire una realtà ma anche come lo dice quindi è stato come uno sport mi sono appassionato come uno sport iniziato a trascinare tutti gli amici che conoscevo all'epoca perché non volevo sentirmi solo in questa cosa non mi rispecchiavo purtroppo nel calcio io abito di fronte allo stadio però non mi rispecchiavo nel calcio non mi rispecchiavo in quelle che sono tutte le i trend o le culture diciamo anche della mia città mi mi reputo anche un po napoletano atipico detto in senso buono sotto alcuni aspetti quindi mi ha aiutato a distinguermi a differenziarmi e a trovare qualcosa per sentirmi speciale per questo quando ho scoperto il rap non non l'ho mollato più e da quando ho 10 11 anni che sono un appassionato freestyler un appassionato collezionista di dischi amo fare i beat il rap col tempo mano a mano mi sono costruito tutto questo mio mondo che mi ha aiutato a trovare poi una personalità una dimensione che oggi oggi mi sveglio la mattina e mi tiene impegnato io faccio hip hop tutta la giornata faccio musica tutti i giorni è praticamente la mia vita il mio lavoro e la mia passione ecco come lo sport che hai citato insomma ci vuole disciplina per fare tutto questo non è una cosa semplice fare hip hop fare rap fare musica di questo tipo in generale nelle arti però anche soprattutto rispetto a questa arte assolutamente hai detto una parola perfetta una parola che c'entra che rientra proprio diciamo nei canoni di questo mondo di questa cultura la parola disciplina l'hip hop ha un numero molto ricorrente che il quattro ok i tempi dell'hip hop girano in quattro quarti c'è la musica hip hop gira in quattro quarti le discipline dell'hip hop nascono da quattro discipline che sono graffiti ovvero diciamo i disegni disegni sul muro i graffiti i murales volgarmente chiamati murales il djing quindi i dj i breakers che sono penso proprio quelli che hanno quasi non so se ricordi flash dance negli anni 80 di eravamo proprio nel periodo della nascita dei breakers quindi sono tra quelli che quasi sono i fondatori di questa cultura i ballerini breakers e poi ci sono gli mc i maestri di cerimonia ovvero il è per quelli che con la voce diciamo raccontano le storie intrattengono le persone queste sono le prime quattro discipline ogni appassionato del hip hop da 50 anni ad oggi sceglie la sua via oppure sceglie di intraprenderle tutte anche un po come ho fatto io anche fatto un po di break dance oggi mi diverto ma mi sono concentrato sulla musica e super però sì è una cultura molto disciplinare non è semplice musica è una filosofia di vita è uno stile di vita e oggi è anche una metodologia pedagogica per approcciare a ragazzi con difficoltà comunicative agli adolescenti che hanno fortestro creativo a persone con difficoltà con difficoltà anche memoniche o di affidità è noto che ha un potenziale potentissimo lo portiamo nei carceri per aiutare i ragazzi a canalizzare le loro energie in qualcosa di costruttivo oggi praticamente il hip hop si dimostra il nuovo rock è il genere primo in classifica è un genere che finalmente il pop si è accorto che è fondamentale prima era in rap ad aver bisogno del pop ora non c'è artista pop che non chiama un rapper o non mette un tempo un beat trap o rap nei suoi dischi o nella sua musica quindi finalmente credo si sia anche riconosciuto il valore di questa cultura di questa filosofia di questo stile di vita vero torno un attimo al alla questione pedagogica perché nella prima parte di buongiorno weekend abbiamo conosciuto alberto autistico che insegna batteria ai bambini autistici tu appunto hai detto che è meraviglioso tutto questo non hai detto che allo stesso modo tu insegni il rap può diventare un modo per anche sociale pedagogico insomma per essere più inseriti nella società e aiutare i bambini ad esprimersi fai tantissimi laboratori in questo senso quando hai deciso appunto di mettere la tua arte al servizio di bambini piccoli grandi ma soprattutto di appunto bambini che soprattutto hanno delle difficoltà guarda allora l'hip hop nasce su dei principi fondamentali essendo anche una cultura molto disciplinare ha una storia particolare perché nasce nel bronx negli anni 70 dopo un grandissimo black out del bronx dove la gente praticamente per la povertà bruciava le proprie case per avere i soldi dall'assicurazione dopo un omicidio ad un diciamo capo di gang del bronx viene instaurato un incontro del bronx ti faccio questo piccolo riassunto ora capisci perché viene installato questo incontro nel bronx di tutte le gang ma non per andare a cercare questo criminale ma pensi risolvere i problemi del quartiere stando uniti stando insieme quindi i concetti su cui africa bambata il fondatore di hip hop ha fondato questo movimento questa cultura sono peace unity love ed having fun dei concetti praticamente applicabili con chiunque applicabili a tutte le ore quindi nonostante il rap sia un genere forte sia un genere esplicito come dicevi prima è vero è un genere che ha bisogno di di a volte di essere violento ma questo perché semplicemente è anche la società che lo richiede una società di censura una società che comunque mette in secondo piano i difficili gli ultimi quindi con questo strumento appunto si diventa più forti quindi oltre oggi a chi vuole fare una lotta sociale anche chi ha una lotta con se stesso anche chi non abbastanza strumenti per combattere affrontare la vita è uno strumento aggiuntivo ti dà più sicurezza ti impara a muoverti timpa impara ad esprimerti quindi tra queste discipline ci sono degli elementi applicabili benissimamente con persone disabili con ragazzi autistici nelle scuole delle carceri otto anni fa ho avuto la possibilità grazie al mio presenziare in questo in questa tipologia di territorio hip hop ok sono quello che organizza le gem che mette insieme le persone facciamo ancora cose a livello sociale quindi da otto anni a questa parte sono sempre stato visto come quello che rispecchiasse i concetti più puri dell'hip hop quelli meno commerciali la mia musica magari meno da discoteca e più da piazza quindi ebbi la fortuna otto anni fa di avere questa chiamata per portare dei laboratori in una scuola elementare di capodichino dove sta all'aeroporto diciamo tra capodichino secondigliano e quelle zone lì all'inizio ti dirò ero molto spaventato perché stavo per entrare in una scuola a parlare con dei bambini che aver chiamato professore poi in realtà si è dimostrato più facile di quello che sembrasse da lì ho iniziato a farlo dei centri d'accoglienza ho iniziato a farlo in centri praticamente dove ci sono ragazzi disabili quindi centri ricreativi dove si fanno attività per ragazzi disabili e tutti amano praticamente fare queste attività perché ti danno sicurezza ti fanno riscoprire ti fanno viaggiare delle parole nella nostra lingua in noi stessi nelle nostre storie e fino ad oggi abbiamo sempre avuto risultati pazzeschi nei carceri i ragazzi ci amano per quanto anche di la prima volta che ci sono andato ho pensato dove sto andando troverò dei ragazzi che magari hanno dei problemi così grandi nella vita e hanno fatto delle cose così folli che vedere una cosa come il rap mi daranno del merdo oppure risulterò un po stupido ai loro occhi invece anche entrare e uscire da lì fortunatamente perché un ambiente molto difficile mi dà una carica emotiva pazzesca e per quei ragazzi nel carcere minorile il rap è un ancora di salvezza ora dalla nostra cooperativa crisi come opportunità c'è stata fatta una storia dove non so se kento lucarello hanno raccolto questa testimonianza di un ragazzo dell'ipm di catanzaro che ha detto toglietemi tutto mettete mi viene freddo addosso a dirlo mettete toglietemi tutto mettetemi in isolamento ma non toglietemi laboratorio di rap ti posso assicurare che quei ragazzi veramente quando ci vedono diventano dei bambini ragazzi che magari hanno fatto cose che i bambini non fanno ma quando ci vedono per il rap per il tempo che subito passa è una roba che tutti i giorni ringrazio di esistere sta roba dell'hipop veramente un potenziale quasi quasi unico non voglio appare poi di dichiarazioni troppo pesanti perché non salviamo il mondo e non salviamo le vite ma diamo una spinta in più intanto complimenti anch'io i brividi per il tuo racconto perché davvero importante riuscire a dare una speranza di comunicazione questi bambini questi ragazzi che sicuramente hanno fatto qualcosa e sentendo le tue parole mi viene adesso più facile pensare al perché questo genere musicale si sviluppa più facilmente in quartieri un po più degradati alcune volte nelle città proprio perché in realtà non c'è bisogno di nulla a livello musicale potenzialmente puoi farla anche da sola l'importante comunicare quindi adesso è molto più chiaro e ti ringrazio davvero per questa spiegazione molto precisa del del genere e della missione di questa di questo genere in realtà tutte le arti dovrebbero comunicare qualcosa chi più chi meno alcune volte si rischia un po di diventare popular e quindi di voler come detto tu pensare più ai numeri rispetto a ciò al contenuto però l'importante cioè la base invece dovrebbe essere sempre la stessa comunicare a tal proposito io ascolterei un piccolo estratto del tuo singolo bestia perché ci fa capire quante cose hai da dire anch'io scegliere il mare insieme all'ultima speranza piuttosto che affogarla a terra insieme a tutta stanza meglio morire in mare mano stretta alla speranza che qualcuno sente il grido nonostante la distanza la guerra è una brutta bestia i soldi il potere una brutta bestia l'essere umano una brutta bestia se con te stesso faccia a faccia con la bestia come devo fare come devo fare non si può parlare non si può rappare è un mondo animale non si può parlare questo però lo si dice in tutte le arti la stand up comedy la comicità nel teatro nella televisione nel cinema anche nella musica e proprio in questi giorni c'è stata anche più di una discussione rispetto a questo tema quindi che la musica debba o non debba portare sul palco e un cantante quindi sul palco delle dei temi importanti che sembrano essere fuori dalla musica in realtà non lo sono perché si fa cultura tu sei orgoglioso di aver visto giuglier sul palco e quindi e anche tutto il movimento che c'è stato in questi giorni di di protesta no di di comunicazione dobbiamo parlare mi è piaciuto ho visto diciamo una sorta di ricatto molto rivoluzionario giuglier è un ragazzo che sicuramente ha una storia diversa dalla mia anche un'attitudine anche un percorso una strada molto molto differente da quella dei ragazzi diciamo come me anche se comunque siamo accomunati dalla stessa passione siamo sicuramente due generazioni diverse ma ovvio che posso essere orgoglioso di un ragazzo napoletano partito dal nulla che che sale di sopra e come si dice dalle mie parti a revota tutto praticamente quindi è stato un altro molto rivoluzionario ha fatto parlare di sé e ognuno ovviamente lo fa a modo suo io mi sento sempre molto piccolo rispetto alla musica non lo dico per ipocrisia o come si suol dire per cui è tuo vivere lo dico semplicemente perché veramente mi sento piccolo ed è uno strumento per tutti e oggi avendo visto persone di tutti i tipi fare il rap con ogni tipo di di capacità ogni tipo di condizione vitale mentale sociale il rap è uno strumento che resta tale ognuno è libero di farlo come vuole lui è vero perché parla e parla come è e questa è anche una cosa che ho che ho apprezzato pericchio il suo linguaggio anche se appunto io in quanto napoletano grazie al rap ho imparato ad esprimermi anche meglio in italiano posso dirlo senza problemi l'ho imparato più grazie alla voglia di fare un rap in italiano che magari con la scuola quindi magari in questo appunto non siamo tanto diversi io e javier e magari anche io alla sua età ho avuto bisogno di di uno stimolo e una spinta per fare di più di quello che avessi fatto a scuola quindi credo sia a me che a javier il rap abbia fatto lo stesso effetto e lui lo sta usando molto 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 bene perché si esprime in maniera sincera e molti ragazzi molti giovani a saremo si sarebbero costruiti appositamente no in devozione del programma in devozione che è quello che chiede il programma lui è andato lì con la sua lingua parlando come mangia esprimendosi con lo diciamo lo stile musicale che sta ancora portando avanti quindi posso posso solo apprezzare sono orgoglioso che un napoletano stesse sul podio e anche non non un po' però visto anche un bel po' ingiusto non ho seguito sanremo perché sono in tour con le date ero diciamo per un concerto ad amsterdam e poi ho accorto l'occasione per girare altri videoclip quindi ho seguito tramite i social e poi lo dico sincero non ho mai seguito tantissimo sanremo se non per eco ok sono contento che futuro non è detto che esatto la partecipazione di la tua partecipazione no perché tutto sta cambiando vincenzo intanto mi scrivono da trieste benvengano ragazzi come voi grazie mille ed è una signora anziana che ci scrive quindi vedi amore per trieste ci ho vissuto ed è una città per poeti è una città in cui ho letto tantissimo ero sempre nelle librerie perché molto pacifica quindi un bacione un cuore a trieste meraviglia sai che io sono nata a trieste quindi mi fai estremamente felice se dici questo vincenzo a proposito del tuo album in ultima battuta sta la stai lo stai presentando in giro quali sono gli appuntamenti per vedere anche sentire godere della tua arte dal vivo ok ma abbiamo fatto praticamente milano salerno amsterdam non voglio diciamo stiamo girando stiamo girando siena e siena siena è stato bellissimo sembrava di stare a napoli tra l'altro ai miei ultimi concerti sembra napoli in tutta italia perché poi ci sono tanti napoletani che purtroppo tanti giovani napoletani che purtroppo devono emigrare per vivere quindi quando un rapper underground come me va fuori trovo tantissimi napoletani che vengono ai miei concerti ed è una cosa emozionante la prima data del disco non è stata a napoli è stata siena ti posso dire che sembrava napoli c'erano i miei amici delle superiori è stato è stato bellissimo la prossima data sarà al cso pedro di padova con il rapper americano black milk sono spesso con rapper americani di rilievo è una cosa che diciamo inserisco molto nella mia discografia apri il concerto di black milk poi a breve comunicherò la mia data a roma a brevissimo sui miei social comunicheremo la data a roma un'altra data europea e poi ad aprile non posso ancora dire niente una data in un contesto importantissimo a napoli il mio concerto a casa mia a napoli quindi a breve sui miei social comunicherò tutto 16 per ora il 16 marzo a padua seguite sui social oiosce amene il suo nuovo album tanta fortuna a te vincenzo grazie e ancora complimenti buona giornata e buon weekend grazie a vincenzo tra pochissimo ci prendiamo il caffè con cloris brosca io non vedo l'ora